Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato quattro persone, assolvendone altre due, al termine del processo per l'inchiesta antimafia de reddito, in cui i sei imputati erano accusati a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione. Nel dettaglio, i giudici hanno inflitto 18 anni ciascuno a Maria Catena Cammarata, 68 anni, e Giuseppe Di Garbo, 81 anni. 16 anni e 16.000 euro di multa sono stati inflitti al boss Francesco Cammarata, 61 anni, e 13 anni a Giuseppe Cammarata, di 30 anni. Assolti da ogni accusa, Massimo Amaru, 56 anni, e Salvatore Tambè, 53 anni. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta dei Carabinieri, Cosa Nostra avrebbe chiesto il pizzo a diversi imprenditori e commercianti della zona di Riesi, sia attraverso richieste di denaro o imponendo l'assunzione di persone gradite all'organizzazione. Alcuni imprenditori avevano deciso di costituirsi parte civile nel processo insieme al comune di Riesi, e il Tribunale ha concesso il risarcimento dei danni, il cui ammontare sarà deciso in sede civile. Soltanto al comune di Riesi è stata riconosciuta una provvisionale da 1.000 euro.